In quel tempo, Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito, colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri cinque. Così, anche quello che ne aveva ricevuti due ne guadagnò altri due. Colui, invece, che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque dicendo Signore, mi hai consegnato cinque talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Se è stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò, infine, anche colui che aveva ricevuto due talenti e disse Signore, mi hai consegnato due talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Se è stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Il padrone gli rispose Servo malvagio e pigro Tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i dieci talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma chi non ha verrà tolto anche quello che ha e il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre là sarà pianto e stridore di denti. La parabola dei talenti è certamente tra le più conosciute e tra le più ricordate dei Vangeli. La morale è chiara. I talenti non vanno sprecati. È un insegnamento tanto cristiano quanto umano. Quello che proviamo a capire oggi è il perché il terzo servo, quello a cui era stato affidato un solo talento, lo sotterra. Qual è stato il problema? Perché, a differenza degli altri, non ha investito il suo talento? Proviamo ad indagare sulla risposta che dà il suo padrone. Dice così Signore, so che sei un uomo duro che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra ecco ciò che è tuo Questo servo ha l'idea di un padrone duro, terribile ne ha paura Ci possiamo fermare qui Ora operiamo una necessaria trasposizione dei personaggi il padrone è Dio e i servi gli uomini Ecco L'uomo che ha sprecato il suo talento è un uomo che ha paura di Dio Perché ne ha paura? Perché lo considera duro e cattivo cioè ha un immaginario di Dio sbagliato in realtà non lo conosce Se io devo servire un padrone di questo genere è ovvio che farò il minimo indispensabile sarò misurato in ogni cosa Se invece quel padrone ha il volto del padre, della madre, dell'amico di uno che è di casa mi giocherò più volentieri e con più fiducia Quindi in conclusione potremmo dire che ci giochiamo tutto sull'immagine che abbiamo di Dio Grazie a tutti Grazie a tutti